Ciao Pierpaolo, pronto per registrare il prossimo episodio? Direi di sì, tra l'altro Alessandro stavo leggendo un sondaggio sulla conoscenza in generale delle connessioni presenti sul nostro territorio, quindi direi magari di trattare questo tema oggi. Mi pare interessante. Che dici? Andiamo? Andiamo. Benvenuti o bentornati a questo nuovo episodio del Freak Talk. Sono Alessandro Guardini. Sono Pierpaolo Gelmi. Ed oggi siamo qui per parlare di connettività, perché solo 3 utenti su 10 realmente conoscono il tipo di tecnologia che li collega alla rete. Ma partiamo innanzitutto da quelli che sono i numeri del mercato italiano. Pierpaolo, sapresti darci qualche dritta in questo campo? Merito ai numeri la dà l'osservatorio Agicom delle comunicazioni, anzi lasciamo il link in descrizione, che ci descrive proprio la situazione di connettività e di quanti utilizzano ancora, quanti italiani utilizzano ancora connessione rame o misto rame all'interno proprio della propria abitazione. Stiamo parlando di una numerica molto importante perché un italiano su 5 utilizza ancora la DSL e un italiano su 2 utilizza ancora la VDSL, quindi stiamo parlando di 7 italiani su 10 che utilizzano ancora una connettività rame o misto rame. Quindi in questo caso c'è necessità appunto di intervenire con dei modem adeguati per soddisfare quelle che possono essere le esigenze di tutti gli italiani. Quali sono queste esigenze Pierpaolo? Stabilità innanzitutto, sicurezza, velocità ovviamente di trasmissione all'interno della rete locale, quindi abbiamo sicuramente la soluzione giusta per tutti questi italiani. E poi ne andremo a parlare, ma innanzitutto partiamo dalle strutture di rete. Quindi Alessandro andiamo a parlare di tecnologie e soprattutto vedere la struttura di queste connessioni rame o misto rame, ci fai vedere? Certo, a supporto abbiamo una slide che ci va a mostrare innanzitutto come funziona una connessione ADSL. Ripeteremo la parola rame un milione di volte perché è necessario dato l'impiantistica, la struttura proprio di questo tipo di tecnologia. In questo caso l'ADSL o Fiber to the Node, che è un'altra modalità ancora in cui si può nominare, siamo connessi da casa fino all'armadio di strada in rame e dall'armadio di strada fino alla centrale di riferimento sempre in rame. Questo va a limitare la velocità che è raggiungibile, che può arrivare fino ai 20 MB in download e fino al MB in upload. È una tecnologia che è estremamente datata eppure, come dicevi prima, viene ancora utilizzata da un italiano su cinque. Più largamente diffusa, fortunatamente, è la VDSL, la tecnologia FTTC, Fiber misto rame, chiamiamola come vogliamo, nonostante le sue miriade di terminologie associabili. In questo caso la nostra casa è collegata fino all'armadio di strada, quello che vediamo con la testa rossa nelle nostre vie, con il rame, ma poi finalmente abbiamo un collegamento in fibra ottica dall'armadio fino alla centrale di riferimento. Questo ci permette di aumentare le velocità esponenzialmente, fino a decuplicarle. Ad esempio con l'FTTC io posso arrivare fino a 200 MB in download e fino a 20 MB in upload e tutto questo può migliorare enormemente quelle che sono le risposte da parte dei dispositivi collegati e, come dicevi prima, andare a colmare quelle che sono le esigenze dei clienti, di noi stessi che utilizziamo la linea tutti i giorni, ma per poter fare questo salto tecnologico dalla velocità fino a 100 a 200 è necessario un particolare tipo di profilo che si chiama 35B. Prima di passare a questo argomento e ricevere i tuoi suggerimenti, diciamo già che parleremo in futuro anche di FTTH e quindi andremo a discutere e a concludere il nostro discorso sulle tecnologie di connessione. Ma, ritornando ai suggerimenti per gli acquisti, cosa possiamo andare ad utilizzare sulle linee ADSL e Fiver Mestralame all'interno di quella che è la gamma di Fritz? Sì, tra l'altro corretto quello che dicevi Alessandro, di FTTH ne parleremo in un altro Fritz Talk, direi di fare un altro Fritz Talk in merito e in merito invece alla tecnologia DSL, VDSL che parlavi e al 35B di cui hai menzionato, quindi per arrivare fino ai 200 megabit per secondo in download e 20 megabit in upload, abbiamo una famiglia di Fritz Box dedicata ovviamente a questo tipo di tecnologia. La famiglia Fritz Box che inizia col 75, quindi abbiamo 7590, 7530, il 7510 e il 7590X che è in Wi-Fi 6 che permettono appunto questa modalità di connessione, questo tipo di vantaggio. Tra l'altro i nostri modelli, il 7590X, il 7530X e il 7510 sono tutti e tre in Wi-Fi 6, quindi sempre più una moltitudine di dispositivi è connessa all'interno della rete locale, quindi i nostri Fritz Box permettono una connessione perfetta a tutti i dispositivi connessi, quindi da smartphone, tablet, laptop, computer, tutto quello che voglio inserire all'interno della rete locale che saranno gestiti al meglio dai nostri Fritz Box, tra l'altro sistema operativo dedicato, quindi con tutti i parametri configurabili all'interno del Fritz OS e abbiamo già visto tra l'altro nella puntata del Fritz Talk dedicato alla 750 quelle che sono le novità del nostro Fritz OS, la smart home, il telefonia, quindi posso fare veramente avere quello che è un centro nevralgico importante per la connettività della mia casa. Ottimo. Andiamo a vedere come si configura un Fritz Box? Andiamo. Nella scatola del nostro Fritz Box, oltre al Fritz Box stesso, andremo a trovare anche quello che è l'alimentatore e il cavo per la DSL, quindi inizieremo collegando l'alimentatore alla presa elettrica ed al Fritz Box e poi successivamente andremo a collegare quella che invece è la parte necessaria per poter far funzionare la rete, quindi inseriamo la prima estremità del cavo DSL verso la presa telefonica e la seconda parte invece nella presa dedicata direttamente sul Fritz Box. Una volta che abbiamo effettuato questa operazione e che il Fritz Box si è avviato, andiamo a collegarci a quella che è la rete del Fritz Box stesso che ritrovate sulla parte posteriore del modem, inserite la password che è sempre lì presente e poi una volta collegati si va al pannello amministratore e vi si accede tramite il codice riportato sempre sull'etichetta che trovate sul resto del vostro Fritz Box. E qui ti passo la parola Pierpaolo. Ed eccoci entrati all'interno dell'interfaccia utente del Fritz Box. Una volta che abbiamo digitato fritz.box sul nostro browser possiamo entrare nell'interfaccia utente digitando poi la nostra password del Fritz Box che troviamo nell'etichetta che sta sotto il Fritz Box oppure sul biglietto di benvenuto all'interno della confezione del Fritz Box stesso dove oltre la password del Fritz Box troviamo anche la password della rete locale. Facciamo clic su avanti e fin da subito l'assistente alla configurazione del Fritz Box ci supporterà per installare correttamente i parametri della propria DSL. Infatti facendo clic su avanti troverò un menu dove selezionare correttamente il proprio provider che gestisce il servizio DSL. Lavorando come azienda a stretto contatto con tutti i provider del territorio nazionale il Fritz Box saprà già quali parametri inserire se dovessi scegliere uno dei provider presenti all'interno di questo menu. Oppure se non trovassi un determinato provider potrò sempre andare manualmente ad inserire i parametri richiesti. Facciamo un esempio, clicchiamo su altro provider e facciamo clic su avanti. Qui inseriremo il nome del provider stesso e quindi andremo a specificare come deve essere seguito l'accesso ad internet se tramite DSL, quindi tramite la porta DSL del Fritz Box o in cascata ad un altro modem che fornisce la connessione internet quindi collegando il cavo alla porta one del Fritz Box. Facciamo clic su avanti e andiamo ad inserire i parametri forniti dal provider. come il nome e ovviamente la password. Il Fritz Box ora mi chiederà con un riepilogo se i dati inseriti sono corretti. Facciamo clic su avanti ed il Fritz Box ora andrà a verificare i parametri e quindi a stabilire la connessione internet con il provider selezionato. Ed ecco fatto, la verifica della connessione ha avuto esito positivo quindi faccio clic su concludi il passaggio. L'assistente alla configurazione mi chiederà altre cose come per esempio il fatto che potrei andare a inserire una numerazione VoIP oppure delle modifiche da portare alle impostazioni Wi-Fi passaggi che posso fare tranquillamente in un secondo momento. Mi chiederà anche una mail per rimanere aggiornato sui vari aggiornamenti del nostro Fritz OS e per essere supportati nell'eventualità che si perdessero dati di accesso come per esempio la password di rete. L'ultimo passaggio riguarda la verifica dell'eventuale software update e ci siamo. La connessione DSL come vediamo all'interno della panoramica del Fritz Box è perfettamente attiva con anteprima tra l'altro dei parametri relativi. Bene Alessandro abbiamo visto quanto sia stato semplice configurare il nostro 7590X via DSL in qualche passaggio abbiamo fatto tutto per chi avesse delle ulteriori domande può scriverci direttamente nei commenti direi che siamo arrivati in conclusione a questo punto del Fritz Talk. Siamo arrivati in conclusione come dicevamo parleremo di nuovo di tecnologie di connettività parleremo di FTTH, parleremo di fibra misto radio e anche di LTE quindi continuate a seguirci sui nostri canali social Facebook, Twitter, Instagram ma anche su questo stesso canale YouTube. Vi aspettiamo al prossimo episodio. Ciao! Ciao!